E' un importante documento, penso che oggi la comunità islamica di Sicilia è presente, è presente perché crede in questa iniziativa che oggi la Sicilia è protagonista, come è stata sempre nella sua storia, un punto di incontro tra i popoli. Una convenzione, una convenzione comunitaria, una convenzione di comunità che vede la partecipazione della società civile, di 20 paesi del Mediterraneo, ma al tempo stesso anche alcune rappresentanze comunali, essendo i sindaci liberi di esprimere le proprie opinioni perché non hanno né esercito né armi, né battono moneta. Questo li rende molto più liberi di poter promuovere i diritti della persona umana in un Mediterraneo che è diventato il punto di riferimento per i diritti. La mobilità internazionale, umana internazionale, ha fatto del Mediterraneo in qualche modo il termometro della capacità di rispettare i diritti di tutti e di ciascuno, che non vale soltanto per il Mediterraneo, di grande attualità l'accoglienza in questo momento dei profughi dell'Ucraina. Quindi io credo che questo convegno sia molto importante, questa convenzione sia molto importante perché manda un messaggio agli Stati che è di rispetto della persona umana e della vita. Se questa convenzione aveva un'importanza prima, oggi ne assume una molto più grande, dato che siamo in periodo di guerra. Stiamo cercando con espressione della società civile, quindi dal basso, di 20 paesi del Mediterraneo, di creare una rete permanente che abbia la pace, la tutela dei beni comuni e il rispetto di tutti i diritti al suo centro. Straordinario, bisogna che la società civile, la diplomazia dal basso, come l'abbiamo chiamata per tanti anni, si faccia forte e dica chiaramente che questo Mediterraneo non ha bisogno di morti nel Mediterraneo, ha bisogno di vite e ha bisogno che i diritti umani siano rispettati ovunque nei paesi del Mediterraneo e credo che sia veramente importante. Noi siamo qui in tanti paesi, tante lingue, tante culture, capendo che la diversità culturale è una ricchezza e non c'è esclusione. Quindi è fondamentale combattere contro i colonialismi, le occupazioni militari che ci sono ancora nel Mediterraneo, contro le guerre, soprattutto oggi, in questo momento così drammatico, in cui la guerra è prepotentemente nelle nostre vite e noi dobbiamo essere contro questa guerra e contro le guerre e le violenze.